Consigliere Saluzzo, allora un comune di Imperia praticamente in predissesto 11 milioni di debiti in qualche modo da risanare con un piano pluriannale, ecco, viene da dire spontaneamente in amministrazione prima c'eravate voi, c'eravate anche voi, ma allora che cosa è successo, che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo una cosa gravissima che tra l'altro l'altra sera in Consiglio Comunale è passata un pochino sotto tono perché tutti i riflettori si sono accesi sul caso della cittadinanza onoraria al prefetto Gabrielli, in realtà è avvenuta una delle cose più grave della vita di Imperia che compie 95 anni e c'è questa dichiarazione di predissesto, questo ricorso al piano pluriannale di riequilibrio e bisogna essere precisi in questo caso con i termini e parlare di disavanzo informazione, cioè non sono debiti fuori bilancio come qualche locandina dei giornali locali ha pubblicato, ma è un disavanzo che si sta creando e si tenterà di coprire in un periodo di tempo dilatato, circa 10 anni, ma per quanto riguarda l'origine di questi problemi io vorrei sottolineare che bisogna ricordare che c'è una progressione temporale, questi problemi nascono dagli anni Ottanta e vanno avanti con tutte le amministrazioni di tutti i colori politici, commissari compresi e diciamo che c'è una pluralità di responsabilità sicuramente, comprese anche, io non devo fare l'avvocato difensore di nessuno, anche dell'ultima amministrazione, ma se qualcuno avesse seguito con attenzione il dibattito del Consiglio Comunale avrebbe visto che io ho citato dati e numeri, date e numeri e questi debiti iniziano veramente più di vent'anni fa. Dobbiamo fare qualche esempio, tanto per cercare di capire cosa è successo. Assolutamente, ci sono dei debiti che nascono da impegni di spesa presi nei confronti ad esempio di Amat, ci sono stati dei mutui che il Comune di Imperia doveva pagare ad Amat, che nascono dagli anni Ottanta, ci sono sempre nei confronti di Amat contributi che poi non sono stati pagati, o perlomeno sono stati pagati solo per un brevissimo periodo, a fronte di un impegno pluriennale, con un mutuo acceso però, e questi adesso bisogna pagarli, parliamo di ad esempio rifiacimento di Piazza Toscanini, piuttosto che della fontana dell'acqua frizzante e questi sono debiti che il Comune si era impegnato a corrispondere nel 2003, nel 2004, nel 2005 e a seguire e poi dopo un paio di rate pagate non ha più pagato. E questo oggi viene fuori e questi sono debiti fuori bilancio. Però, scusi, Saluzzo qui, allora è un sistema, una macchina comunale che non ha funzionato da nessun punto di vista, a parte quello politico, anche dal punto di vista tecnico, come si fa a dimenticarsi, tra virgolette, che ci sono dei mutui, che ci sono dei debiti e non riportarli poi da un bilancio all'altro? Eh, questo dal punto di vista tecnico non sono forse la persona più adatta per dare questi chiarimenti, saranno dati e saranno richiesti nelle sedi opportune. Ritengo però che tutte le amministrazioni, non solo l'ultima ma anche quelle precedenti, abbiano cercato di metterci una pezza a queste situazioni dovendo sempre rincorrere, diciamo, i debiti delle amministrazioni precedenti. A oggi una congiuntura anche nazionale, forse perché mancano dei trasferimenti anche dallo Stato, non consente più di sanare i debiti pregressi. Quindi, in questo momento, il Comune d'Imperia non riesce più a pagare i debiti che ha accumulato in un periodo di tempo molto lungo. Per questo si fa ricorso all'articolo 243 bis, cioè quello del cosiddetto predissesto. E ora resta da sperare che la Corte dei Conti accetti questa proposta, diciamo, di, chiamiamola laterizzazione, via. Sì, certo, ora deve essere accettata questa proposta, deve essere intanto formulato un piano di riequilibrio pluriennale che deve essere accettato dalla Corte dei Conti e dal Ministero degli Interni, ma sono convinto che gli uffici avranno già preso contatti in precedenza, non faranno un tentativo al buio, avranno sicuramente già valutato insieme alla Corte dei Conti la possibilità di rientro.